Nuovo decreto in vigore da domani e fino al 5 marzo. I colori delle zone non sono più tre ma quattro. Arriva infatti la zona bianca, un'oasi felice con minori restrizioni e in cui attività quali palestre, cinema, teatri e musei potrebbero riaprire. La zona bianca però può essere disposta solo qualora i nuovi casi di covid siano meno di 50 ogni 100.000 abitanti. Da domenica ad ogni modo l'Italia sarà ricolorata e si andrà verso ulteriori restrizioni piuttosto che verso un allentamento. La cabina di regia si espressa all'Abruzzo, sarà zona arancione. Tra regioni è evitato spostarsi, anche tra regioni gialle, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità. Si può andare in visita nelle abitazioni private ma solo una volta al giorno per un limite di due persone oltre agli inquilini, fatta eccezione per i ragazzi da 14 anni in giù. Dalle 18 inoltre l'asporto è consentito solo per i ristoranti e non per i bar. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e qualora siano vietati gli spostamenti tra comuni rimane l'eccezione per quelli con meno di 50.000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 30 aprile. Quella pandemica è oramai un'eccezione ordinaria considerando che lo stato d'emergenza è in vigore dal 31 gennaio 2020. Questa particolare disposizione consente in via del tutto eccezionale di emanare tramite potere d'ordinanza conferito al presidente del consiglio dei ministri norme per fronteggiare una particolare situazione anche a costo di limitare libertà e diritti fondamentali. Nonché di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti. E questo sebbene il decreto legge 59 del 2012 preveda la durata massima dello stato d'emergenza per 90 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 60 giorni. Nel nuovo decreto anche un capitolo dedicato ai vaccini. Istituita una piattaforma informatica nazionale per la distribuzione delle dosi e per tenere traccia delle somministrazioni. E in Abruzzo intanto nuova ordinanza della regione per contenere il focolaio scoppiato a seguito dell'uccisione di un maiale a pezzo ferrato in provincia di Chieti, Marsilio ha disposto la zona rossa per il paese di circa mille abitanti. Nessuno può entrare e uscire dal territorio comunale ad eccezione del personale sanitario o per motivi di salute o eccezionale necessità.